Questo messaggio è per i miei contatti iscritti ad amici. Gli altri sono stati bloccati. I messaggi verranno spediti, cioè se mi verranno spediti, dovranno essere approvati da me. Da questo momento nessuno potrà mettere messaggi sul mio canale che io non abbia voluto. Allora, pertanto qualsiasi persona si comporti male dei contatti che ho o degli amici finti o presunti potrò saperlo subito. E pertanto potrò bloccarli, rimuovere la mia iscrizione o amicizia in ogni momento. Questo perché voglio che la lealtà sia il principio primario del mio canale e della mia politica. Da questo momento in poi non ammetto ignoranza. Se prima ero drastico e bloccavo subito quelli che mi rompevano i coglioni, adesso lo sarò ulteriormente. E pertanto con questo ho chiuso.